Ciao a tutti, io sono il Dilan Dogofilo. Oggi ho la grande opportunità di portarvi qui sul mio canale YouTube questo importantissimo contenuto. La recensione dell'albo speciale numero 6 di Dilan Dog intitolato 7 anime dannate. Perché è un albo così particolare? Perché è un prodotto che è stato molto criticato ai tempi, negli anni 90, quando era uscito, ed è un volume di Dilan Dog che viene criticato tutt'oggi da tantissimi lettori che si dividono fondamentalmente in tre categorie. Chi urla alla blasfemia e accusa Tiziano Sclavi di essere blasfemo, chi invece reputa questo uno dei migliori albi di Dilan Dog, se non il miglior albo di Dilan Dog in assoluto per quanto riguarda le atmosfere, e c'è chi dice invece che è semplicemente un copia in colla di un famosissimo libro che andrò a descrivervi fra pochi minuti all'interno di questo video. Io cosa ne penso? Seguite la recensione per saperlo. Copertina, copertina di Angelo Stano. Innanzitutto facciamo così, togliamolo dalla sua copertina. Solitamente non tengo gli albi imbustati, ma lo sto facendo in questo caso per non perdere il preziosissimo inserto Graucio, qui l'albetto di Graucio. Se non hai visto la recensione la trovi qua sul mio canale, vedete un inserto che era inallegato proprio con questo albo speciale. La copertina di Angelo Stano mi è piaciuta dal punto di vista del disegno o del tratto, perché va a presentare tutti questi personaggi sotto forma di marionette in maniera molto buona, e in generale il disegno va proprio a dirci chiaramente cosa troveremo all'interno di questa avventura. Nulla di più, nulla di meno. Sfondo neutro e soggetto bello imponente. Quindi in questa avventura ci sarà Dylan Dog che dovrà andare a districarsi in un fantomatico castello, o comunque in una magione semi-abbandonata, cercando insieme ai suoi compagni di non venire ucciso da delle marionette assassine. O questo è quello che sembra, perlomeno. Ci sarà forse qualcuno a comando di queste marionette, ma ci arriveremo dopo. Qui, cosa volevo dirvi ulteriormente di questa copertina? Volevo parlarvi un po' della schematizzazione, perché è veramente matematica. Guardate, non c'è nessun elemento che si sovrappone all'altro, ognuno ha il giusto spazio, c'è la pubblicità, c'è il logo, il disegno. Insomma, tutto che dialoga perfettamente. È stato tutto incastrato molto bene. Mi piace come è stata impostata questa copertina. Secondo me è una delle più riuscite. Qui sulla costa abbiamo il classico logo rosso sullo sfondo bianco. Il test e la sceneggiatura sono di Tiziano Sclavi, disegno invece di Corrado Roy. La trama, bene o male, ve l'ho già accennata. Quindi direi di partire subito in quarta per descrivervi le tre categorie di lettori, di darvi un po' una spiegazione di quello che vi ho detto prima. Allora, potrei stendermi una recensione di cinque secondi. Ovvero, questo è un albo che va a copiare esattamente, pari pari, uno a uno, le vicende di dieci piccoli indiani. Finito. Nulla di più, nulla di meno. Ecco, quindi questo è il primo punto critico che alcuni lettori hanno trovato. Tiziano Sclavi particolarmente smarrito dal loro punto di vista in questa occasione che è andato a stendere una storia veramente priva di originalità. Non è il mio pensiero. Il mio pensiero qual è? Io mi appoggio e sto dalla parte di chi dice che questo è l'albo dotato di un'atmosfera forse micidiale, forse una delle migliori in assoluto, perché è vero che è un albo copiato da dieci piccoli indiani, però nel modo in cui la sceneggiatura andrà a svelarsi ci saranno veramente delle atmosfere particolarmente importanti. Secondo me ancora un pochino superiori in termini di qualità rispetto a quelle che abbiamo visto nell'albo numero 16-17, rispettivamente intitolati Il Castello della Paura e La Dama in Nero. Ecco, questa avventura va a ricalcare molto quelle situazioni lì, quel tipo di inquadrature, quel tipo di propria atmosfera in generale, e va secondo me da alcuni punti di vista, in alcuni punti di vista addirittura a migliorarle. Ecco, quindi io mi schiergo da questa parte. E poi c'è la nota blasfema, ma quello ci arriveremo alla fine, perché contiene anche forse un leggerissimo spoiler. Quindi per chi non ha ancora avuto modo di leggere questo albo, vi dirò poi quando arriveremo al momento di descrivere quella situazione, così andrete a chiudere il video senza essere spoilerati. Per chi invece ha già avuto modo di leggere questo albo che è uscito negli anni 90, precisamente nel 92, quando non era ancora nato, potremmo andare a parlare anche di quel terzo aspetto lì, che va un po' a contornare anche il finale. Dicevo, la situazione è comunque molto valida. Dylan deve fronteggiarsi continuamente e rapidamente, anche con tante situazioni difficili. Dylan viene messo alle strette in questa occasione. Una cosa che, un aspetto che forse ho rilevato, sempre leggermente critico, però non si poteva fare altrimenti, un aspetto che ha portato a una forzatura eccessiva della sceneggiatura, è stato il fatto che, in pratica, tutti questi sette prigionieri, tra virgolette, perché alla fine Dylan viene assunto per indagare su qualcosa, che si rivelerà invece una buffonata. Sono stati tutti incastrati, tra investigatori, tra gente di particolare rilievo, ognuno avrà una sua caratteristica, sono stati tutti imbrogliati e sono stati portati in questo luogo di tortura, che, insomma, in questo luogo dove verranno eventualmente ammazzati. Quindi, ecco, il punto critico è il fatto che potevano scappare tutti subito, già nelle prime tavole, però l'avventura si sarebbe conclusa, ecco, alla tavola, penso, 14-15, perché si poteva scappare subito. Una volta appurato, accertato che c'è qualcuno che ti vuole ammazzare, non ci pensi due volte prima di scappare. Ed è una cosa che effettivamente i personaggi tenteranno di fare, però non nel modo in cui avrei previsto. Un modo un po' strano che ci riporta comunque al fatto che dovevano per forza rimanere prigionieri del castello. Mi spiego meglio. Su uno scappa, scappa. Però scappano in un certo modo che ti fa capire che comunque devono per forza starci dentro in questa avventura. Anche Dylan, testone, testa dura, vorrà vederci chiaro in questa vicenda, quindi deciderà anche lui di tornare in questa maggiore per scoprire chi è questo pazzo che vuole la morte di tutte queste persone. Dal punto di vista dell'horror e dello splatter, l'horror è molto presente, si sposa perfettamente con le atmosfere citate prima, riescono a dialogare perfettamente tra di loro, l'horror e l'atmosfera, ognuno tiene la mano all'altro. Ci sono diverse scene horror che sono di particolare impatto. Se ci si inserisce bene con la testa all'interno di questa avventura, se ci si riesce ad immedesimare come si deve, veramente si rimane spiazzati da alcune situazioni che troveremo all'interno di questa avventura. Quindi un albo denso di, non dico colpi di scena, ma di situazioni veramente di impatto. E questa è una cosa che mi è piaciuta. I disegni di Corrado Roy, logicamente, sono supremi. Riescono a interpretare benissimo ciò che Sclavi voleva dirci, ciò che Sclavi voleva farci vedere, ciò che Sclavi aveva in mente. E disegni che riescono a valorizzare bene tutte le espressioni del volto, dei vari personaggi, in tutte le varie vignette di questa storia. Tantissime vignette, ci stiamo riferendo a un albo speciale, quindi sono più di, dovrebbero essere intorno alle 160 tavole, e invece no, 132. Alcuni albi speciali ne hanno anche 160. Come vi dicevo, è difficile ricreare così bene ogni singola vignetta in un lavoro così ampio. Invece Corrado Roy è riuscito a tenere il passo, non è andato a togliere alcuni tratti salienti della sua arte per fare più in fretta a stendere le varie tavole, ma con calma, secondo me, si è messo lì ed è riuscito a realizzare tutto in maniera molto, molto buona. Quindi dal punto di vista grafico non ho trovato nessun segno negativo. Quindi Corrado Roy promosso a pieni voti, dall'espressività dei personaggi alle angolazioni, ai giochi di luce ombre fondamentali, alle situazioni più da interpretare, perché ci sono anche delle scene un pochino strane, tipiche di sclavi, che vengono spiegate bene dai disegni di eroi, quindi tutto sommato questo artista ha fatto un ottimo lavoro. Ecco, tutto sommato, per chi non volesse essere spoilerato, si fermi qui, vi dirò che il mio voto finale riguardante questo volume è un otto pieno, nonostante tutte le varie criticità, copia e incolla e varie che vi diremo, e nonostante l'ultima forte criticità che andremo ad analizzare fra poco. Quindi chiudete il video qua, se non volete essere spoilerati, ciao ciao. Mentre tu che sei rimasto probabilmente hai letto questo albo. Ecco, qual è il terzo punto critico? La blasfemia che vi accennavo forse all'inizio di questo video. Allora, come sapete io sono un tipo molto religioso, sembro un bravissimo ragazzo che va in chiesa tutte le domeniche, e di fatto lo faccio quando riesco, chiusa parentesi, ma non ci ho visto una nota blasfema così accentuata, così come dicono tutti. Io mi aspettavo di trovare, non so, qualcosa di veramente blasfemo, non so. Sì, qua alcuni hanno interpretato Dylan che sputa in faccia a Dio e quelle cose lì, ma secondo me io non l'ho vista così. Potrebbe trattarsi benissimo di una divinità qualsiasi, generica. non lo so, io non ho trovato quella criticità che invece hanno riscontrato in molto. In tanti ci hanno visto appunto una figura religiosa particolarmente importante della religione cattolica e hanno detto che secondo loro appunto Slave andava proprio a denigrarla in questa avventura addirittura, ma io personalmente una situazione di questo genere non l'ho vista. Vi ripropongo qua la tavola. In pratica c'era appunto questa entità. Non si capisce se è un angelo, se è un demone o tutti e due insieme. Non si capisce esattamente cos'è. Era lui che per passare il tempo, per altri motivi non ben definiti, ha voluto portare i personaggi all'interno di questo gioco perverso dove regnava la morte per ammazzare tutto, un po' per passare il tempo, ma secondo me può essere visto come una delle tante creature che appartengono al mondo di Dilan Dog, delle quali l'identità non è ben chiara. Quindi potrebbe essere un personaggio qualunque dal mio punto di vista. Non ci ho visto particolari riferimenti così lucidi e lampanti, così evidenti. Bene, abbiamo parlato anche di questo. Ora non mi resta che attendere la vostra opinione qua sotto nei commenti. Questo è stato un video molto strano. Ho parlato in maniera molto diversa dal solito perché non è un albo di Dilan Dog classico, testa, sceneggiature, disegni, ma qua c'è da parlare anche di tante altre cose. Ci sono degli aspetti che vengono a galla, che vanno oltre quello che è la lettura classica di un albo di Dilan Dog e che vanno oltre quella che è una revisione classica di un albo di Dilan Dog. Insomma, ci sono opinioni molto più profonde che dovremmo andare a scambiarci qua sotto nei commenti. Per il momento è tutto. Se questa recensione in qualche modo ti è stata utile o se ti è piaciuta, condividila dove vuoi. Iscriviti al canale YouTube del Dilan Dogofilo. Importantissimo, ve lo ripeto ogni volta, per venire sempre aggiornati sul personaggio di Dilan Dog. Noi ci vediamo in un prossimo video dedicato al mondo del narratore dell'Incubo. Spero di non aver rovinato eccessivamente questo albo. Ottimo. Spero di non aver rovinato eccessivamente questo albo di Dilan Dogofilo.